Eccoci, come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, arriviamo oggi stesso a 25.000 iscritti, grazie, 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 guardate poi il video podcast di Marco Van Basten, ve lo dico perché non tutti l'avete visto e non sapete che cosa vi state perdendo. Allora ragazzi, mercato Milano, un po' di novità, perché abbiamo conferme importanti sul nome di Lazar Samaric, giocatore dell'Udinese, che valuta 20-25 milioni di euro, profilo molto molto intrigante, che ha un contatto di scadenza nel 2026, 22 anni, serbo, 1,84, giocatore che ha fatto tanti ruoli, un po' il centrocapista centrale, un po' la mezzala, un po' il trequartista, in serie A, a 22 anni, ha 93 partite già. Con 13 gol e 8 assist, aggiungiamo anche 10 gare e un assist in Bundesliga. Non ha fatto Champions, non ha fatto Europa League, è molto giovane, però è anche molto interessante. Ebbene, conferme sulla volontà del Milan di provare a trovare un'intesa con l'Udinese, come confermato a livello di nome anche oggi da Furlani, dicendo che non è l'unico nome, ce ne sono diversi. Il Milan quindi vuole fare anche un giocatore qualitativo oltre a Fofana e Samaric è un profilo che piace davvero molto. Però bisogna fare un po' di spazio, cioè cedere a dei giocatori, raggranellare qualche soldino, anche se ci sono oggi soldini. Perché se vuoi spendere per 40 per Morata, per 40 più qualcosa per Zirze e ne spendi 15 per Morata, c'è un 25 di differenza che potresti spendere per altri. Comunque il Milan mette in vendita alcuni suoi giocatori, Adli, che non è assolutamente cedibile, anzi il Milan sta cercando di trovare mercato attorno al giocatore francese, eppure Pobega, che potrebbe essere una parziale contropartita all'Udinese che apprezza il profilo di Pobega, che è però utile per la questione liste. Quindi in questo momento il Milan vorebbe cedere più Adli di Pobega e poi andare appunto su Samaric o altri profili come Samaric, che non è l'unico profilo. Vediamo che cosa succede, Samaric è un giocatore molto qualitativo, è uno secondo me da San Siro. Conferme importanti anche questa mattina, con nuovi contatti con i suoi entourage. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Un abbraccio a voi.